Terz'ultimo film della rassegna dedicata ai fratelli italiani, l'ultima parte di Per il cinema italiano, la manifestazione organizzata dal centro sperimentale qui a Santa Croce in Gerusalemme. Il film di stasera è La masseria delle allodole, un film che parla di un episodio storico tragico, drammatico, importante e molto negato, almeno nel paese dove è avvenuto in Turchia, il genocidio degli armeni da parte dell'esercito turco nel 1915. Nel film c'è anche Yvonne Shaw, che ringraziamo, buonasera, e che vuole raccontarci un po' di ricordi e un po' di sensazioni, abbiamo detto Yvonne. Ricordaci cos'è stata quell'esperienza in un film così speciale. Beh, innanzitutto io, come tante persone credo, non sapevo tanto del genocidio armeno, per cui innanzitutto quando li ho incontrati, quando ho fatto l'incontro con loro, mi sono sentita osservata, mi hanno osservato le mani, un po' tutto, per cui quando, meno male, è andato il che mi hanno preso, non volevo deluderli, volevo essere la più brava, volevo fare il mio meglio e per cui mi sono, sono proprio entrata in quel mondo, sono andata, andavo a Milano, a Piazzale Diaz, cioè la Casa Armena, e mi sono piazzata lì e sono diventata amica delle persone lì, c'era questa signora carinissima che mi ha riempito di libri, di fotografie, proprio non sapendo, volevo saperne di più e per entrare nel personaggio, anche se io facevo una contessa, però ero sposato con l'uomo armeno, per capire lui, per capire la sua cultura, ecco. Quindi una preparazione intensa, una full immersion nella cultura armena e poi le riprese, qualche ricordo delle riprese. Le riprese io avevo non il cuore in gola, credo dentro dei capelli, ero agitatissima perché comunque sono quelle cose che ti capitano nella vita, come lavorare con Mastroianni, quando ho lavorato con Nanni Loi, quelle cose che ti rimangono dentro, quell'eleganza, quella cultura, quel rispetto umano che raramente, ahimè, lo incontri. Per cui io, il primo Chuck, però ero talmente dentro il personaggio che io mi ricordo mi ero messo in disparte, qualcuno era tipo all'inizio, che eravamo arrivati, ero in un angolo e mi parlavano e io proprio, non c'ero, in realtà non c'ero. Per cui quando abbiamo finito la prima scena, perché loro, come ben sai, dividono le scene, c'è stato un silenzio, e invece Vittorio ha incominciato a battere le mani. Allora lì, capito, lì mi sono un attimo, per cui per me è stata un'emozione grandissima. Hai nominato? Dopo aver lavorato con loro, è molto difficile che ti dice, ah, vuoi fare altre pose, vuoi fare sei pose, una cosa, e tu dici, eh no, io ho lavorato con i taviani. Cioè sono quelle cose che ti cambiano la vita, ecco. Prima hai nominato Marcello Mastroianni, sappi che è dietro di te e ti protegge, ecco. Ho lavorato anche con lui, anche con i mostri. Ci racconti, l'abbiamo chiesto anche ad altri tuoi colleghi, ma è sempre divertente provare a scomporre questa figura mitologica dei due fratelli. Ci racconti com'è essere diretta da due registi e le differenze tra Paolo e Vittorio? Certo. Io in realtà è una cosa strana, non mi era mai successo. Allora, sai, quando tu comunque reciti, hai la sensazione che se cadi ti prendono. Hai quella cosa. Solo che quando sono due persone, guardi uno, guardi l'altro, guardi e dici, oddio, chi devo guardare? Cioè se cado chi mi prende? Però in realtà c'è una magia. Cioè Vittorio era su certe cose, in quel gesto lì, con il suo cash call, i suoi occhiali, il suo cappello, era un ragazzino, era molto anche leggero, anche entusiasta, brava, brava. Capito? Per me che mi dicesse brava, ho detto no, forse mi lanceranno di pomodori, mi diranno che sono incapace, io sai, sento così. Invece Paolo è più serio, era molto più serio e loro esattamente quando tu giri con uno, giri con uno e l'altro non esiste. Pum! Ed è proprio una scena, una divisione matematica, ecco. Ed è molto naturale. Cioè non è strano, anzi era meraviglioso, non era una roba che dici come faccio, era molto naturale. Alla fine se cadevi ti prendevano in due. Dici? Probabilmente sì. Yvonne, grazie mille.